Ciao, io sono Marzia Maldi e ho scelto di fotografare il tempo libero delle casalinghe. Man mano, cioè in questo caso erano casalinghe di tutte le età, ci siamo fotografate anche tra di noi perché comunque siamo tutte casalinghe, riguardando il materiale è emerso che spesso il tempo libero viene utilizzato per fare delle cose utili che servono a tutti, possono essere le conserve, i lavori a maglia, i vestitini per i bambini e quindi diciamo si utilizza interno delle proprie case questo tempo spesso e quindi forse diciamo questo tempo libero non è utilizzato proprio per se stessi al di là di qualcuno che lo utilizza per leggere o per farsi bella o per curare se stessa ma spesso è spesso a servizio degli altri. Grazie. Grazie.